Ampio spazio alle relazioni e al dibattito. Il convegno di scena oggi nella chiesa di Sant'Agostino a Montalcino, normativa vitivinicola, novità, aggiornamenti e orientamenti, ha visto una breve introduzione del presidente del Consorzio del Brunello, che ha lasciato spazio alle novità sulle disposizioni, sulle etichettature, un tema che ha rilevanza sia per gli organismi di controllo privati, sia pubblici, tanto per gli enti di certificazioni. Le ricadute su Montalcino sono le stesse ricadute che possono avere anche in ambito sempre vitivinicolo, perché l'etichettatura è senz'altro una leva molto potente nelle strategie di marketing di un'impresa. Quindi Montalcino è il cuore della produzione vitivinicola e quindi il poter presentare correttamente un prodotto ha la sua importanza e la sua rilevanza. Ma si è parlato anche di un tema interessante quanto nuovo, la dematerializzazione dei registri enologici. La dematerializzazione dei registri enologici, termine forse un po' arcano, è una semplificazione che è consentita da una normativa comunitaria che attraverso la quale i registri enologici detenuti dalle cantine sono tenuti su un blog nazionale del Sian, che è il Servizio Informativo Nazionale del Ministero delle Polite Agriole. Questo fa sì che i dati di tutti i vini dell'approvazione, delle certificazioni, dell'analisi e la rintracciabilità diventi una difesa reale del consumatore. Il Consorzio del Brunello è stato un artefice primario della tracciabilità e già nel suo sito internet dà la possibilità ai consumatori di poter fare e rintracciare la tracciabilità di tutti i vini. attraverso il numero della fascetta di stato che è presente sulla bottiglia del vino, il consumatore può vedere chi è il produttore che ha fatto quel vino e rintracciare tutta la catena. La dematerializzazione andrà ancora avanti in questo percorso e quindi il Consorzio vede molto bene questo strumento in quanto è uno strumento di tutela ancora più avanzata del consumatore e della filiera produttiva del vino. Dalla gestione di fase transitoria alla nuova normativa comunitaria su impianto, istirpazione e reimpianto dei vigneti. Cosa aspetta i produttori di Montalcino a partire dal 2006 in materia di gestione di potenziale viticolo? Le prospettive per Montalcino, diciamo che il nuovo sistema tende un po' a ingessare quella che è la libertà delle aziende perché le autorizzazioni al reimpianto non saranno trasferibili. Quindi le prospettive per Montalcino è l'augurio che prima che tutto questo avvenga riesca a utilizzare i diritti che ha ed eventualmente anche ad acquistarne altri per poterli poi usare nell'arco fino al 2023 in cui ancora sarà permesso di poterli impiegare. E nel convegno non si poteva non parlare di tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. È difficile conoscere e sapere cosa sia la qualità, però tutti siamo d'accordo su un concetto che la qualità sia un valore aggiunto. Ecco, noi controlliamo quel valore aggiunto se sia veritiero o taroccato. L'ispettorato si occupa anche di questi controlli, controlli che, ripeto, possono avere anche questa piega di natura penale perché si tratta di forme di contraffazione, forme comunque che ledono non solo la qualità, il consumatore, il produttore, il mercato. E dunque tutto questo viene vigilato anche dalla repressione frodi. Grazie. Grazie.